Qui c'era a schermo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oggi voglio fare con voi un unboxing di una cosa che aspettavo da tanto tempo e che sono andata a ritirare oggi. Sto parlando di un nuovo alleato per il canale che vedrete, cioè che è dietro le quinte, però è altrettanto importante come microfono e come tutto il resto. E sto parlando del nuovo computer. Un macbook pro tra dieci pollici, sembra. E sono fatto aiutare nel mio ragazzo nella scelta del computer perché io non me ne intendo. E siamo andati a finire sul Mac perché a parità di prezzo era la cosa più intelligente da prendere per me visto che ho anche l'iPhone e l'iPad quindi è molto più comodo passare vari file. E anche per il video editing l'iPad è molto buono. Non ho mai avuto un Mac quindi sarà un po' un trauma utilizzarla all'inizio. Questo tapping sulla busta è bellissimo. Bene. 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 Eccolo qua Devo ancora proprio togliere la linguetta Adesso la tolgo, faccio un close up Perché secondo me è molto soddisfacente questa parte Ok, andiamo Andiamo Ok Facciamo un po' di tracing Qui c'è lo schermo E qui la tastiera Ho leggermente cambiato il setup dei microfoni Era forse per sentirmi un po' meglio Comunque Andiamo Si può dire davvero tutto dell'Apple Ma far l'unboxing dei prodotti dell'Apple E' proprio un'altra esperienza Un'altra cosa assolutamente Non c'è proprio paragone C'è una mela C'è una mela Ok Andiamo a togliere la pellicola del computer L'ho preso di questo silver Classico Proprio classicissimo E prima di andarlo Ad aprire Andiamo avanti all'unboxing Avevo anche Avevo ascoltato un podcast sulla Apple Sulla capacità comunicativa dell'Apple E una cosa che mi è rimasta molto impressa E che è caratteristico il suono Di quando si aprono le scatole dell'Apple E mi è rimasta impressa appunto Perché occupandomi di suoni E effettivamente Erano questo suono proprio bello Studiato Perché sicuramente è studiato E come quasi una colonna sonora Bene Qui Ci sono E Gli adesivi E poi Insomma Come si usa Mi servirà Perchè non l'ho mai usato E poi abbiamo il caricatore e l'acqua ok Ok, adesso riappulciamo e andiamo ad aprire il MAC. Ho zoomato, allora apriamo. Ok, ok, ok. Appolto. Non è tazzo il Mac? No! Io avevo un computer tazzo. Farò vaticata ad abituarmi al fatto che non è tazzo. Ma sono bellissime queste card. Non adesso. Qui mi fa selezionare la rete ma io non mi ricordo assolutamente la password. Quindi facciamo un po' Allora 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 Chiudiamolo Io spero... mettiamolo via. Io spero davvero 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 che questo semplice unboxing mi sia piaciuto e abbia rilassato. Adesso cominciano a tornare anche dei roleplay personal attention eccetera 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 arriveranno prestissimo forse già lunedì. Allora Io penso proprio Penso proprio Penso proprio Penso proprio proprio si aggiunta allora abbassare le luci augurarvi 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 augurar augurarvi una buona 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 notte buona notte buona notte sogni d'oro sogni d'oro sogni d'oro sogni d'oro good 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 night sogni d'oro sogni d'oro buona notte sogni d'oro sogni d'oro sogni d'oro buona notte sogni d'oro buona notte buona notte buona notte